ciao sono alessandro perilli e in questo video voglio parlarti delle modalità innovative che riguardano le aste giudiziarie una delle modalità innovative molto interessanti riguarda la possibilità di partecipare alle aste giudiziarie ma direttamente da casa quindi oggi a differenza di tanto tempo fa si ha la possibilità di poter partecipare in maniera telematica alle vendite all'asta è uno degli aspetti da dover tenere sicuramente in considerazione oltre alla perizie come al solito è sicuramente la possibilità che vi dovete preservare riguardante la visione del bene perché se non avete la possibilità di visionare il bene quindi vi viene per qualsiasi ragione preclusa questa possibilità io eviterei assolutamente a priori di partecipare alla alla gara per quanto riguarda le aste telematiche bisogna avere delle competenze come per quanto riguarda le aste solo che in questo caso ci sono ovviamente delle varianti e bisogna tener presente quali sono queste varianti e come comportarsi ad esempio le tre varianti di cui vi parlo sono la vendita telematica sincrona la vendita telematica sincrona mista e poi la vendita telematica asincrona qual è la differenza fra le tre in sostanza la differenza è che la vendita telematica telematica sincrona permette in in diretta ecco di partecipare all'asta in maniera telematica però tutti i partecipanti devono essere collegati telematicamente quindi offerte dal vivo non si possono presentare e il giudice o il delegato non ne accettano e quindi bisogna capire come bisogna registrarsi bisogna presentare tutte le offerte in maniera corretta nei tempi e nelle modalità giuste la vendita telematica sincrona mista invece permette a differenza della prima di partecipare in diretta non solo telematicamente ma permette di partecipare anche fisicamente mentre ci sono altri partecipanti appunto a casa quindi si avranno delle offerte sia fisiche che telematiche e le persone possono essere presenti fisicamente all'interno dello studio del delegato la vendita o nel tribunale mentre a casa ci sono altri partecipanti che non sono lì presenti però hanno diritto a partecipare all'asta sincrona mista poi c'è l'ultima che invece quella asincrona che viene utilizzata nelle vendite immobiliari senza incanto per la stragrande viene utilizzata anche per le vendite soprattutto per le vendite mobiliari quindi che sia di automobili che sia di altri beni mobiliari insomma questa asincrona che cosa permette in sostanza permette di partecipare all'asta telematica non in maniera contemporanea cioè collegati tutti nello stesso orario e con un termine un termine di tempo ma sia invece al contrario sia semplicemente un tempo prestabilito entro il quale devi presentare le offerte ed aggiudicarti in assoluto poi il bene quindi alla fine chi offre per ultimo vince in sostanza questa è la asincrona quindi tieni presente bene le tre modalità di partecipazione all'asta telematica la asincrona sincrona mista e sincrona quindi impara bene a partecipare evita errori guarda bene la perizia e guarda soprattutto anche la possibilità che ti danno di poter vicinare bene in questo modo non perderai né soldi né tempo e farai sicuramente degli ottimi affari quindi con questo io ti saluto e ci vediamo al prossimo video ciao